Varianti avanzate di Plank, una sessione breve e impegnativa per migliorare le tue performance durante i workout. Iniziamo! Ok, iniziamo! Subito la torsione del tronco, movimento lento, controllato, torsione del tronco a destra e a sinistra, la testa segue il movimento naturale, ancora 5, 4, 3, 2, 1, cambio, spinte indietro, due spinte e cambio braccio, due spinte e cambio braccio. Facciamo un ottimo riscaldamento, attiviamo tutti i muscoli prima di iniziare questo super workout. 5, 4, 3, 2, 1, torsione tronco veloce, torsione del tronco a destra e a sinistra, due colpetti senza forzare a destra e a sinistra, attiviamo il core, testa dritta, respiro, gambe leggermente piegate, 5, 4, 3, 2, 1, apro un braccio e ruoto il tronco dallo stesso lato, alterno le braccia prima braccio destro e ruoto a destra, poi braccio sinistro e ruoto a sinistra, vai! Esercizio successivo, skip incrociato più gomito ginocchio, 4, 3, 2, 1, skip incrociato più gomito ginocchio, destra e sinistra, incrocio, respiro, attiviamo l'addome da in piedi. Esercizio successivo, torsione gomito ginocchio alternato. Ancora qualche secondo, vai! 3, 2, 1, torsione gomito ginocchio alternato, mani dietro la testa, avvicino gomito ginocchio opposti, butto fuori l'aria in chiusura, destra e sinistra, destra e sinistra. Salgo bene con le ginocchia, cerco di toccare gomito e ginocchio, ancora, vai! 5, 4, 3, 2, 1, recuperativo! Prendiamo il nostro tappetino e procediamo con l'esercizio successivo. Il crunch più tocco caviglie alternate e 3, e 2, e 1, crunch più tocco caviglie alternate, vai! Prima da una parte e poi dall'altra. Sollevo la testa, addome forte, tocco prima una caviglia e poi l'altra. Oscillo sul tappetino, resisto ancora, mi sposto a destra e a sinistra, a destra e a sinistra. Ancora 10 secondi, attiviamo il retto addominale, vai! 5, 4, 3, 2, 1, recuperativo, respiro. Esercizio successivo, crunch, bicicletta, gomito e ginocchio, tra 3, 2, 1, vai! Alterno il movimento gomito e ginocchio a destra e a sinistra, vai! Tocco gomito e ginocchio a destra e a sinistra, incrocio bene il movimento, respiro, attiviamo l'addome, resisti fino alla fine, sincronizza bene il movimento. Ancora 10 secondi, resisti. 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo. Esercizio successivo, abes twist, tra 3, 2, 1, piedi sollevati, torsione verso destra e sinistra, la schiena è dritta, fuori l'aria nelle torsioni, respiro, cerco di mantenere l'equilibrio. Ancora 20 secondi di apes twist, vai! Respiro, butto fuori l'aria nelle torsioni, la schiena è dritta, i piedi sollevati, torsione verso destra e sinistra, senza forzare. 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro. Esercizio successivo, camminata in quadrupedia. 3, 2, 1, cammina mantenendo le ginocchia sollevate da terra, piccoli passi in avanti e piccoli passi indietro. Dalla posizione di quadrupedia con le ginocchia sollevate da terra, andremo a muoverci in avanti e indietro con piccoli passi per attivare diverse zone muscolari del nostro corpo, l'addome, le braccia, le gambe e i glutei. Ancora 10 secondi, vamos! Mi sposto lentamente dietro, mi sposto lentamente in avanti. 3, 2, 1, recupero attivo. Ci posizioniamo sul fianco destro. 5, 4, 3, 2, 1, plank laterale più apertura monolaterale. Chiudo e apro gamba e braccio sinistro. Gomito destro in linea spalla. Gambe a 90 gradi. Espiro, chiudo. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Inspiro, apro. Vai! Respira. Controlla il movimento. Ancora 10 secondi. Espiro, chiudo. Ispiro e apro. Vai! 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo. Plank laterale più apertura monolaterale dall'altra parte. 3, 2, 1, chiudo e apro gamba e braccio destro. Gomito sinistro in linea con la spalla. Addome forte per mantenere al meglio l'equilibrio. controllo il movimento. Chiudo e apro. Chiudo e apro. Sempre respirazione. Sempre addome forte. Ancora 10 secondi. Resisti fino alla fine. 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo. respiro. Ci prepariamo al plank gomito ginocchio più incrociato. 3, 2, 1. Dalla posizione del plank gomito ginocchio e subito gomito ginocchio incrociato. Alterna gomito ginocchio dello stesso lato al gomito ginocchio incrociato. VAMOS! VAI! Incrocio, incrocio, gomito ginocchio, gomito ginocchio, incrocio, incrocio, gomito ginocchio e gomito ginocchio. Ancora 10 secondi. Resisti. Ancora qualche secondo. 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo. Esercizio successivo. Plank leg twist. 3, 2, 1, posizione del plank. Sposta il peso e stendi la gamba destra e poi la sinistra. Movimento è controllato. Non andare veloce per non perdere l'equilibrio e rovinare la tecnica dell'esercizio. controllo lo spostamento del peso. Stendo la gamba destra e poi la sinistra. Il movimento è controllato. Non andare veloce. Mantieni la respirazione. Ancora 10 secondi di spostamento. Vai! 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo. Respiro. Esercizio successivo. Plank laterale più flessione della gamba. 3, 2, 1, posizione plank. Fletti ed estendi la gamba superiore. Il corpo è in linea. Spala inferiore distante dall'orecchio. Addome contratto per mantenere l'equilibrio. Respirazione attiva. Movimento continuo. Vai! Ancora. Salgo e scendo. Salgo e scendo. Controlla il movimento. Respira. 3, 2, 1. Resta sul fianco. Abbiamo il side elbow plank più twist. Tra 3, 2, 1. Vamos! Posizione del plank laterale. Torsione del tronco e porto il gomito verso il basso. Addome contratto. Le gambe sono tese. Piede a martello. Controlla il movimento. Respira. Ancora 20 secondi. Vai! Torsione del tronco e porto il gomito verso il basso. 10 secondi. Addome contratto. Vai! 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Ora ripetiamo tutto dall'altro lato. Non farti aggredire da questo workout. Stiamo andando alla grande plank laterale più flessione della gamba. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! Posizione del plank. Fletti ed estendi la gamba superiore. Il corpo è sempre in linea. La spalla è inferiore distante dall'orecchio. L'addome è contratto per mantenere al meglio l'equilibrio. Fletti ed estende la gamba. Controlla il movimento. La mano è sul fianco. La testa è rilassata. Respira. Ancora 10 secondi. Vai! Resisti. 5, 4, 3, 2, 1. Rimaniamo sempre sul fianco. Abbiamo il secondo esercizio. Side elbow plank più twist. Tra 3, 2, 1. Vai! Posizione plank laterale. Torsione del tronco e porto il gomito verso il basso. L'addome è sempre contratto. Le gambe sono tese. Piede a martello. Respira durante l'esercizio. Ancora. Torsione del tronco e porto il gomito verso il basso. Il movimento è controllato. Ancora 15 secondi. Fino alla fine. Vamos! Torsione del tronco. Porto il gomito verso il basso. Addome è sempre contratto. 5, 4, 3, 2, 1. Recuperativo. Ottimo lavoro. Esercizio successivo. Spinte gambe alternate. 5, 4, 3, 2, 1. Spinte gambe alternato. Vai! Zona lombare ben aderente a terra. Si muovono solo le gambe. Alterniamo gamba destra e gamba sinistra. Cerchiamo di mantenere la schiena ben aderente a terra. Le mani a terra. La testa dritta. Respiriamo. Prima la gamba destra senza toccare. E poi la gamba sinistra. Vai! Solo le gambe. Controlliamo la parte alta del corpo. Ancora 10 secondi. Addome forte. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cambio. Ci prepariamo alla camminata in quadrupedia. Ci giriamo. 3, 2, 1. Cammina mantenendo le ginocchia sollevate da terra. Piccoli passi in avanti. E piccoli passi indietro. Ricordati di mantenere l'addome forte. Non inarcare la schiena. Le ginocchia alzate da terra. Spostamento con piccoli passi in avanti. E con piccoli passi indietro. Testa giù. Respiro. Ancora qualche secondo. Vai! 3, 2, 1. Recupero attivo. Respiro. Scarico un po' di lavoro. Ci giriamo. Esercizio successivo. Ginocchia al petto. Più oscillazione. 5, 4, 3, 2, 1. Entrambe le ginocchia al petto. E piccole oscillazioni da un lato e dall'altro. Chiudo gli occhi. Respiro. Manteniamo le oscillazioni. Prima da un lato e poi dall'altro. E respiriamo. 3, 2, 1. Ginocchio al petto. Trazione un ginocchio al petto. L'altra gamba appoggia a terra. La schiena rimane sempre ben aderente. Testa dritta. Senza forzare il movimento. Mantengo lo stretching e respiro. 3, 2, 1. Cambio gamba. Traziono l'altro ginocchio al petto. L'altra gamba rimane distesa appoggiata a terra. Schiena ben aderente. Testa dritta. E respiro. Esercizio successivo. Divaricata frontale più torsione. Tra 3, 2, 1. Mano destra all'altezza del polpaccio sinistro. Braccio sinistro teso in alto. Senza forzare. Resti in posizione e respira. 3, 2, 1. Divaricata frontale più torsione dall'altra parte. Quindi mano sinistra all'altezza del polpaccio destro. Braccio destro teso in alto. Resti in posizione. Non forzare il movimento e respira. 3, 2, 1. Cambio. Rimaniamo in divaricata frontale. Mantengo larghe le gambe. Scendo in avanti con le braccia. Dove arrivo a toccare mi fermo in stretching. Testa rilassata e respiro. 3, 2, 1. E risalgo. Ci siamo. Il tuo allenamento è finito. Vamo! Il tuo allenamento è finito.